Si è appena concluso il congresso dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, vi daremo di seguito elenco dei consiglieri eletti e non eletti. Andrea Mariani 43, Raffaele Turiel 39, Settimio Pavoncello 35, Sandro Di Castro 31, Giulio Di Segni 30, Vittorio Pavoncello 29. Ora i non eletti, Di Porto Iosef 26, Guido Osimo 26, Esther Mieli 26, Dario Calimani 17, Ioram Ortona 15, Federico Steinhaus 1.